Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione del nostro TG dedicata alle cronache dal Veneto. Apriamo però andando a Dubai dove oggi è aperto ufficialmente i battenti, l'Expo 2020 rimandata di un anno a causa della pandemia. L'esposizione universale vede protagonista anche la città di Venezia al Padiglione Italia nella prima settimana tematica dedicata al cambiamento climatico e alla biodiversità. Questo pomeriggio il sindaco a Brugnaro ha partecipato alla cerimonia inaugurale. Nel programma della manifestazione Venezia sarà al centro di due eventi, due forum focalizzati sulla città lagunare vista come laboratorio e modello internazionale per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici e la promozione di processi innovativi di transizione ambientale, innovazione culturale e sociale. Ci sarà anche il lancio sulla piattaforma globale di Expo della candidatura di Venezia a capitale mondiale della sostenibilità. E c'è molto nord-est all'export di Dubai perché, come sappiamo, la megacupola dell'Alwazl Plaza, la piazza del complesso centrale dell'evento principale cento di aggregazione per i visitatori. È stata realizzata dalla Cimolai S.P.A., una delle realtà fiore all'occhiello del nord-est, protagonista da oltre 70 anni nella progettazione e nella realizzazione di strutture complesse in acciaio. La Cimolai, assieme a Raymond, ha realizzato proprio la cupola dell'esposizione universale. Continuiamo a parlare, in questo caso, di export di vino sui mercati dei paesi terzi perché la Giunta regionale del Veneto ha approvato il provvedimento che definisce le condizioni per l'accesso ai contributi destinati proprio alla promozione del vino sui mercati dei paesi terzi. Si tratta di un'iniziativa prevista dalla normativa europea. La somma totale è messa a disposizione dalla Regione per la campagna 2021-2022 e pari a 12 milioni 700 mila euro, di cui un milione e mezzo per il finanziamento di progetti multiregionali e oltre 11 milioni per il finanziamento di progetti regionali. Questo intervento intende sostenere la promozione dei vini veneti sui mercati esteri, ha sottolineato l'assessore regionale Federico Caner, per cercare di aiutare le bottiglie con etichetta Made in Italy a recuperare quota e competitività dopo l'imprevedibile crisi creata dalla pandemia. Il Covid infatti ha provocato nel 2020 una frenata all'export di vino veneto, calato a meno 3,3%, ma ciò nonostante le esportazioni rappresentano il 36% del valore dell'intero settore nazionale. Adesso apriamo la consueta pagina dedicata agli aggiornamenti sull'epidemia di Covid, vediamo i dati sui nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, sono 349 e c'è anche una vittima. I dati ospedalieri offrono una lettura contrastante, sono in calo i ricoveri nelle normali aree mediche, 220 in tutto, 9 in meno, mentre c'è il rialzo di quelli nelle terapie intensive, 54, 4 in più. Un ultimo dato, quello che riguarda le persone attualmente positive, in diminuzione 39 in meno per un totale di 10.579. Vediamo anche i dati sulle vaccinazioni. Oggi in Veneto, con un dato aggiornato al tardo pomeriggio, attorno alle 17, si sono registrate un totale di 10.679 somministrazioni, 4.581 prime dosi, 4.767 seconde dosi e 1.335 richiami. Complessivamente il 74% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, percentuale che sale all'82,1% se si considera la popolazione over 12, mentre il 70,2% della popolazione ha completato il ciclo di vaccinazione. Anche in questo caso la percentuale sale al 77,8% se si considerano le persone che hanno più di 12 anni. Inquinamento adesso è attiva, da oggi a Treviso l'ordinanza anti-smog stop dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni infrasettimanali a 6.000 auto di vecchia immatricolazione. Vediamo. È in vigore da oggi a Treviso un'ordinanza anti-smog adottata al fine di ridurre l'inquinamento in città. Il provvedimento, deciso in accordo con la Regione, riguarda i comuni sopra i 30.000 abitanti e circa 6.000 vetture nel capoluogo di provincia. L'ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 17 dicembre, salvo poi essere sospesa per le festività natalizie. Le limitazioni si applicano da lunedì a venerdì, fatto salvo il caso di giorni festivi infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30. I veicoli interessati sono le auto a benzina Euro 0 e 1, vale a dire immatricolate prima del 2001, quelle diesel Euro 0, 1, 2 e 3 immatricolate prima del 2006 e i ciclomotori o motoveicoli Euro 0. Il provvedimento è adottato nell'ottica di ridurre il livello di inquinamento in una zona come la pianura padana già oggetto di sanzioni europee. Treviso ha già superato i 35 sforamenti a livello d'allerta di polveri sottili che la legge consente per il 2021. In città, per migliorare la qualità e l'aria, sono state previste anche tre domeniche ecologiche, il 10 e 31 ottobre e il 21 novembre, in cui sarà possibile circolare in bicicletta o a piedi. Con la cronaca rimaniamo in provincia di Treviso perché è stato individuato dai carabinieri e denunciato per danneggiamento aggravato il giovane che il 29 settembre era salito con un SUV sulla scalinata del Tempio Canoviano di Possagno per poi effettuare la discesa in retromarcia, scalfendo parzialmente alcuni gradini di accesso al monumento. La bravata era stata ripresa con i cellulari da alcune persone presenti che poi avevano postato un breve video sui social. Anche queste ultime sono in fase di identificazione. I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno identificato questa mattina l'autore, si tratta di un 24enne della zona che ha messo subito le sue responsabilità, dimostrandosi pentito del gesto e pronto a rimediare all'eventuale danno causato. Il giovane è stato segnalato all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di danneggiamento aggravato in luogo di culto e di interesse artistico. Un altro arresto per spaccio di droga della polizia locale a Mestre ieri pomeriggio. Gli agenti del nucleo operativo hanno fermato un pusher di 27 anni. Nel corso di un servizio effettuato nei pressi della strettoia tramviaria di via Capucina l'uomo è stato colto mentre vendeva sostanze stupefacenti a una coppia di giovani. Fermati vicino alla stazione ferroviaria i due compratori hanno consegnato agli agenti un involucro ciascuno di eroina gialla. Per loro è scattato l'ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore e una multa di 450 euro. Lo spacciatore era già noto alle forze dell'ordine per essere già stato arrestato ad agosto e settembre. Nei suoi confronti è scattato il divieto di dimora nel comune di Venezia fino alla celebrazione del processo che avverrà a dicembre. Dall'inizio dell'anno sono 69 gli arresti effettuati dalla polizia locale, gran parte dei quali per spaccio o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Truffa dello specchietto è stato individuato e sottoposto all'obbligo di dimora nella cittadina di residenza nell'Interland Padovano, l'uomo che nei mesi scorsi aveva raggirato una signora di 83 anni riuscendo a farsi consegnare una discreta somma di denaro. La donna ha denunciato il fatto ai carabinieri di Mestre che attraverso una serie di verifiche incrociate hanno ricostruito le mosse del malvivente fino all'abitazione di Rubano. L'uomo, 50 anni, di etnia Rom è sospettato di essere l'autore seriale di analoghe truffe su ampia parte del nord-est d'Italia. E con la cronaca adesso ci spostiamo sulla cima ovest di Lavaredo dove questa mattina è intervenuto il soccorso alpino a seguito della caduta in parete di un alpinista che stava scalando una via sulla ovest delle tre cime di Lavaredo. Data la presenza di nubi basse l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha fatto un primo tentativo di avvicinamento ma ha dovuto desistere e atterrare al rifugio Lavaredo. Poiché le nuvole non si spostavano dal canale di accesso l'eliambulanza è scesa a imbarcare una squadra del soccorso alpino di Auronzo per trasportarla fino al campo base di Lavaredo. Non appena si è aperto un varco l'eliambulanza è nuovamente decollata e ha potuto effettuare il recupero con un verricello di 50 metri dell'alpinista austriaco che si trovava con altri tre scalatori e aveva riportato una probabile frattura al piede. L'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Belluno. E rimaniamo in provincia di Belluno perché è stata aperta la nuova corsia di marcia della strada statale 51 di Alemagna in direzione Cortina nel tratto urbano di Longarone. Il nuovo tracciato ora accessibile al traffico verrà aperto al transito nei prossimi giorni anche in direzione Venezia. E la normativa europea sul deflusso ecologico dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2022 ma nelle bellunese ci si batte per una deroga. Allora sentiamo perché nel servizio di Alessia. È un vero e proprio appello al suo territorio quello rivolto dall'assessore regionale del Veneto Giampaolo Bottacin in merito alla normativa sul deflusso ecologico dei fiumi che a partire dal primo gennaio 2022 scalzerebbe quella sul deflusso minimo vitale con conseguenti problemi alle portate dei laghi nel bellunese, all'approvvigionamento di acqua in occasione di incendi e naturalmente al turismo. Ne parla l'assessore Giampaolo Bottacin. Nello svuotamento per gran parte dell'arco dell'anno di tutti i laghi della montagna perché per mantenere una certa portata nei fiumi è necessario ovviamente svuotare i laghi con conseguente distruzione dell'ecosistema lacustre, con una devastazione di tutto il sistema economico che orbita attorno ai laghi, penso a quello del turismo in primis, con una riduzione di 900 gigawattora di energia idroelettrica che attualmente viene prodotta. Noi come regione è da tempo che stiamo interloquendo con l'autorità di Bacino che è il soggetto che ha il compito di attuare questa direttiva e abbiamo segnalato il fatto che la direttiva prevede la possibilità di deroghe, ma per ottenere le deroghe è necessario che gli enti facciano delle sperimentazioni e delle simulazioni per dimostrare che l'applicazione di questa normativa sarebbe negativa oltremodo. E adesso è il momento di collegarci con la redazione del Gazzettino per le anticipazioni delle principali notizie che leggeremo sul quotidiano in edicola domani. Allora subito la linea e un saluto a Tiziano Graziottin, buonasera. Buonasera, un saluto a voi. Cominciamo come facciamo sempre dal fronte del Covid per dire che pubblicheremo i dati essenziali di una interessante analisi del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto sulla scuola, relativamente ai contagi sulla scuola, dove viene evidenziato che in queste prime tre settimane sono stati comunque ben 13 mila tra alunni e personale scolastico le persone che a vario titolo sono finite in isolamento o perché positive o evidentemente nella maggioranza perché venuti a contatto con un positivo. L'altro aspetto è che a essere presa di mira è stata soprattutto la scuola primaria, le scuole elementari, dove si sono verificati più casi. Ancora, restando in tema di Covid, il caso di un medico che lamentando una situazione clinica che a suo dire lo portava a non vaccinarsi, ha cercato appunto di evitare il vaccino ma di fronte al TAR, almeno nella prima fase, le sue motivazioni non sono state ritenute valide perché il TAR di fatto ha ribadito che la salute pubblica prevale sull'aspetto individuale. Trasferendoci invece alla cronaca, riportiamo questo ride che hanno fatto dei ragazzi al termine di una serata evidentemente un po' troppo allegra, con una jeep, con un fuoristrada, sono saliti sulle scalinate del tempio della Canova a Possagno, uno dei monumenti più importanti e più noti dell'architettura canoviana e poi hanno messo la loro prodezza su Instagram, sono stati presto individuati e identificati e ora colui che materialmente guidava questa jeep dovrà probabilmente rispondere di danneggiamento aggravato di un bene artistico. E ancora, sempre in tema di cronaca, la morte del figlio 23enne di Zamparini, Zamparini imprenditore, ricordiamo, molto noto a Venezia per essere stato per lunghi anni il presidente del club di calcio che tra l'altro sotto la sua presidenza riportò in Serie A. Il figlio è morto a Londra, a circostanze da chiarire sembra una morte naturale, è stato trovato purtroppo da una cameriera privo di sensi e di vita. Infine, sotto l'aspetto economico, una notizia positiva, ovvero la ripartenza dei distretti italiani e in particolare del Veneto, il Veneto traina questa ripresa con un balzo in avanti dell'export e quindi dopo tanti momenti neri, come sappiamo sotto l'aspetto economico, c'è un raggio di luce anche perché secondo le previsioni di Intesa San Paolo che ha pubblicato questo report andrà sicuramente in miglioramento questa situazione, si registrerà una situazione migliore anche alla fine dell'anno. Direi che queste sono le notizie più significative che troverete sul gazzettino di domani in edicola e per quanto riguarda il digitale dalla mezzanotte di oggi. Grazie allora a Tiziano Graziottin per tutte queste anticipazioni. Noi chiudiamo il collegamento con la redazione del Gazzettino. Abbiamo spazio ancora per una notizia veloce, un servizio. La notizia riguarda l'insediamento oggi all'Università di Padova del Rettore Daniela Mappelli. C'è una nota del governatore del Veneto, Luca Zaia, che dice oggi per la gloriosa storia dell'Università in Veneto è un giorno che resterà negli annali perché per la prima volta in 800 anni una donna si insedia alla guida dell'Università di Padova. A Daniela Mappelli auguro buon lavoro, ha detto ancora Luca Zaia. Domani torna Art Night, la notte bianca dell'arte di Venezia. Allora vediamoci assieme questo servizio che chiude il Tg di questa sera. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata su Dinese TV. L'arte veneziana spalanca le porte ai cittadini per una notte di cultura e bellezza. In occasione della sua decima edizione Art Night viene riproposta con un programma di eventi culturali gratuiti domani sabato 2 ottobre. La manifestazione è stata ideata dall'Università Ca' Foscari ed è organizzata in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Regione Veneto. Il suo obiettivo è riconciliare la cittadinanza con le arti e far scoprire o riscoprire il patrimonio artistico veneziano. In fase di presentazione è stata definita un'esperienza inclusiva e immersiva che coinvolge le istituzioni culturali pubbliche e private di Venezia con una maratona di eventi gratuiti, inoltre 120 siti culturali tra cui musei, teatri, librerie e gallerie. Si comincerà nel pomeriggio a partire dalle ore 16.30 con l'inaugurazione nel cortile di Ca' Foscari e si proseguirà fino a notte fonda con mostre, performance teatrali, laboratori, giochi a squadre, concerti e molto altro. Un saluto ben ritrovati agli amici di Udinese TV che ci seguono dal Veneto da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto stabile ed assolato per la giornata di sabato sul Veneto. Sole appunto protagonista nelle ore pomeridiane, mentre al mattino transiterà qualche annuvolamento in più, specie sui settori montuosi, ma in un contesto ben asciutto. Clima nel complesso gradevole con temperature massime che però non andranno oltre i 23-24 gradi sulle zone pianeggianti. La ventilazione sarà debole con mare in prevalenza calmo. Con questo per il momento è tutto, dettagli maggiori scaricando l'app di Trebi Meteo. Con questo per il momento è tutto, dettagli maggiori scaricando l'app di Trebi Meteo. Con questo per il momento è tutto, dettagli maggiori scaricando l'app di Trebi Meteo.